Buongiorno a tutti, io sono Marilu Sansone, uno dei cofondatori di Impact Hub Torino, che è lo spazio che quest'anno ospita l'evento Abito Vistory. Impact Hub è uno spazio di co-working e di accelerazione per iniziative e start-up che vogliono creare un impatto positivo sulla società. Abbiamo quindi qui all'interno del nostro spazio quotidianamente tanti professionisti, tante piccole imprese che attraverso le proprie attività imprenditoriali vogliono lasciare un impatto sulla società in cui viviamo, quindi sul nostro quartiere piuttosto che sulla nostra città o anche poter creare delle vere e proprie innovazioni da diffondere su scala globale. Infatti Impact Hub Torino fa parte del network internazionale Impact Hub che al momento conta oltre 106 in tutto il mondo e che ha proprio questo obiettivo di poter collaborare e contaminare tutte le varie innovazioni che vengono realizzate, ideate all'interno dei vari spazi locali. Ovviamente parlando di innovazione ci troviamo perfettamente in linea su quello che è l'evento Ebitovistory che va a riprendere un pochino l'innovazione partendo chiaramente dal passato e riproponendo tutto quello che è stato fatto in questi anni dal punto di vista dell'informatica verso tutto quello che sarà l'innovazione futura. Siamo quindi strafelici di poter essere partner dell'iniziativa e siamo contenti che questi spazi abbiano potuto vivere di quello che è stata la contaminazione dell'informatica all'interno del nostro spazio. Grazie. Grazie.